Il coronavirus accelera il cambio da prodotti di origine animale a quelli di origine vegetale. È il boom dei analoghi della carne. Le maggiori testate giornalistiche stanno dedicando ampio spazio a questo fenomeno. Le chiusure dei macelli riducono sensibilmente la produzione di carne negli Stati Uniti, dove si assiste, per effetto della pandemia, alla chiusura o rallentamento di molti stabilimenti produttivi. La pandemia sta rimodellando il mercato americano dei sostituti di origine vegetale in aumento vertiginoso. Secondo i dati rilasciati dall'Istituto di ricerca Nielsen, le vendite di analoghi della carne negli Stati Uniti sono aumentate del 200%. Il dato riguarda la settimana conclusasi il 18 di aprile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vendite sono aumentate del 265% in un periodo di osservazione di 8 settimane.